Musica Ehm, baglia via Sozio, c'è il tuo intervento o la dottoressa Bressi adesso? C'è, sarebbe la dottoressa Bressi, però che non vedo, quindi non so Allora, se non la vediamo me la segnali tu quando arriva, intanto leggiamo la relazione della dottor Rossetti che invece pazienza ne ha avuta tanta perché oggi non è riuscito ad accedere quindi è assente giustificato perché è andato via in quanto non poteva raggiungere questa sala Sì, mi poteva raggiungere questa sala perché purtroppo è una persona disabile su carrozzina di questa cosa sono veramente indignata, ho detto delle cose anche piuttosto alterate agli organizzatori perché ritengo che si deve avere rispetto di tutti e in modo particolare delle persone invalide soprattutto di una persona che partecipava come relatore se ne è dovuto andare perché questa siamo qui, non siamo in Pauvasia, siamo al centro di Roma siamo in un teatro importante che conoscono tutti e praticamente non c'è stata via d'accesso per questa persona su carrozzina c'è soltanto per accedere alla sala centrale e non c'è qui al primo piano allora siccome oggi parlavamo di questo tema importante riferito alle malattie rare dovevano pensare che forse ci poteva essere qualcuno su carrozzina tanti malati se ne sono dovuti andare questo mi dispiace molto ma purtroppo è stata una negligenza degli organizzatori e comunque mi scuso anche con voi che siete ancora rimasti qua però per correntezza il dottor Rossetti che è anche presidente onorario dell'AISA di un'altra associazione appunto che si occupa di persone disabili ed è anche presidente del nuovo coordinamento Lazio Malattie Rare di cui sono anche io vicepresidente e ci teneva in qualche modo con queste due vesti che ricopre di dire qualcosa mi ha lasciato un breve scritto che naturalmente non leggerò tutto leggo soltanto la seconda parte che è più inerente al tema che doveva trattare ed è esattamente la... non leggo neanche bene... il complimento del dieciottesimo anno di vita e lui dice questo minori chi ha un'indenità di accompagno durante la minore età il complimento del dieciottesimo anno non deve pur sottoporsi a visita di aggiottamento ma soltanto richiedere la pensione di invalidità la novità non è recentissima risale al 2014 infatti nessuna norma prevede la necessità di presentare una nuova domanda di handicap al complimento del dieciottesimo anno di età anche nel caso in cui nell'originario verbale fosse stata indicata una visita a revisione in coincidenza con il complimento della maggiore età con legge 114-2014 basta presentare all'IMSS il modello AP70 per avere la pensione di invalidità che è collegata al reddito diversa la situazione per minori che hanno solo l'indenità di frequenza questi dovranno rappresentarsi a visita no, questi dovranno, scusate dovranno rappresentarsi a visita su convocazione di IMSS possiamo affermare che nella maggioranza dei casi la maggior età comporta un crollo improvviso della percentuale di invalidità con relativa perdita dell'indenità di frequenza in un momento in cui il ragazzo che fino al giorno prima era tutelato sta ancora frequentando il quarto anno della scuola secondaria non è ancora indipendente e non è ancora integrato nel mondo del lavoro l'aspetto più grave è quando a perdere l'indenità di frequenza sono i maggiorelli di un giorno con patologia ancora non riconosciuta perché non solo si perde l'aiuto economico ma anche ha facoltà di accedere a visite ed esami ecco che al danno si aggiunge la beffa del diritto alla salute a completo carico dei genitori nelle malattie rare poi poco conosciute si assiste spesso all'adottamento di criteri analogi in base ai sintomi occorre rivedere lo strumento ossia le commissioni dovrebbero avere una linea guida scientifica costantemente aggiornata e magari occorre leggeperare a tutela del minore con l'indenità di frequenza in modo che almeno arrivare al diploma e proporre un diverso sussidio che non sia necessariamente economico per coloro che vorrebbero proseguire gli studi fino alla laurea perché allo scoccare della mezzanotte dei miei 18 anni non sono guarito sono ancora qui a lottare con la malattia senza avere diritti ma è stato riconosciuto il dovere di sottopormi a commissione speciale per poter guidare Alessandro è una testimonianza questa infatti di un ragazzo la criticità dell'IA sono le stesse per l'IF possono solo dirvi che la frase è di un nostro ragazzino che è guarito a chi c'è vissino compleanno qui credo che meriti veramente un applauso finale a chi c'è a chi c'è